... Ballerini, come vi è succeduto? Dite qualcosa, salutate mamma, papà, sorelle... Grande Pasqua! Grazie! Che un... Cinque ottani! C'è tutti guardi giù, ora consigliù... Tirano io voglio dire che siete divertiti? Siiii- Ma sicuri, sicuri, sicuri! Mazza eh, è veramente emozionante eh! Direi che... Mi direi che un pubblico così non ce l'ho, tanti così non ce l'ho mai avuto. Cioè non mi andrebbe proprio per niente di andarmene, me ne sa. Credo che ci dobbiamo inventare qualcosa per andare avanti. Cioè non mi andrebbe proprio per niente di un pubblico così non ce l'ho, tanti così non ce l'ho, tanti così non ce l'ho. Cioè non mi andrebbe proprio per niente di un pubblico così non ce l'ho, tanti così non ce l'ho. Cioè non mi andrebbe proprio per niente di un pubblico così non ce l'ho, tanti così non ce l'ho, tanti così non ce l'ho. Cioè non mi andrebbe proprio per niente di un pubblico così non ce l'ho, tanti così non ce l'ho. Tanti così non ce l'ho. Cioè non mi andrebbe proprio per niente di un pubblico così non ce l'ho. Oh ragazzi, ma che siete andati via? No! Mi sa che un po' sono andati via No! No! Oh, would you hold me by myself? 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 UUICHO HONDIBA UUICHO UN DI V Congress UUICHO UN DI Edgar UUICHO UN DIVERSIT Grazie a tutti. 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 E dato che ci troviamo nella città della moda, io direi di ringraziare il nostro pubblico e di presentarvi tutte le persone che hanno lavorato a questo tu. A questo tu, solo tu, 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 oh io so imparate tutto guarda non mi ricordo che posizione è però prima io passo dalla prima alla quinta di eh non mi servono intermezze ma senza di loro per me sarebbe molto ma molto ma molto ma molto anche più difficile esprimermi perché sono loro che mi accompagnano che si vergognano molto di fare questa cosa ma io li faccio entrare ad uno ad uno adesso il mio successo il mio successo Spera Locale ha preso la chitarra, Giovanni Pagliotti al basso, Peter con l'acqua la chitarra, Marco Lucidio ha preso la scuola, non si vede ma qui c'è anche Gianni, vi ringrazio tutte le persone che si sono fatte l'umazzo d'ante per fare tutti i stagaretti in casa, e ovviamente come tutti gli stilisti sono fatte. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! un bacio come volete ma chi non ce lo prega non ce l'avete ma solo sul punto zero grazie a tutti grazie mille e adesso vado dietro al camerino e mi vado a far dubbiarmi alla faccia di chi me va male bravo il nostro vince il nostro grazie grazie a tutti